noi oggi abbiamo coinvolto phil taylor su un argomento diciamo di comunicazione perché sostanzialmente almeno una volta all'anno noi parliamo di comunicazione con phil taylor e cerchiamo di evolvere di evolvere il nostro modo di comunicare il nostro modo di raccontare come sta girando la comunicazione gli incontri precedenti erano mirati molto alla comunicazione in caso di covi quindi come facevamo l'ultimo se non ricordo male era abbiamo coinvolto sacmi abbiamo coinvolto la danasi che ci hanno fatto vedere un progetto di cui phil era stato diciamo il project leader in cui facevano un percorso di formazione ai giovani tecnici per imparare a comunicare e creavano degli eventi della società rivolti ai loro clienti o ai loro dealer nel mondo eccetera quindi c'era un aspetto diciamo di formativo di far crescere delle persone giovani in contesti di comunicazione nel dare a queste persone diciamo di saper comunicare le loro competenze e dall'altra parte era un po la la famosa modo di comunicare wow in tempo di covi sostanzialmente perché tutti hanno prodotti nuovi tutti hanno cataloghi di prodotti da vendere e questo ci era sembrato un bel modo da comunicare adesso abbiamo fatto un gradino in più e come tellor si sta occupando di ologrammi abbiamo cercato di coinvolgere questa società in cui ci ci daranno sostanzialmente due macro focus aspetti tecnici e aspetti di tipo diciamo di utilizzo di queste tecnologie e dall'altra parte so che phil ha coinvolto la professoressa cosenza e ci parlerà di poter di quanto è importante la comunicazione nell'utilizzo di questo metodo cioè quanto questo metodo effettivamente da una percezione di nuovo di innovativo di coinvolgente questo è un po' il macro il macro risunto dell'evento però siccome vedo phil già pronto lascerei a lui la gestione dei dei vari relatori nella sua parte e ti invito a andare grazie 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 marco grazie buonasera a tutti arrivo molto motivato stasera perché arrivo dopo una sessione bellissima con alstom che è stato un cliente da 33 anni è veramente un gruppo da testo ma fantastico parte di nostra motore packaging vale eccellente allora magari se vado direttamente su un share screen si riesca a prendere bene bene a introdurre iper rapidamente questo questo discorso con una mappa e siamo qui abbiamo visto l'introduzione di marco e i colleghi su quello e l'overview non faccio neanche cinque minuti su questo discorso e credo che questo discorso dell'ologramma si comincia a riaffacciarsi giusto è stato in giro ma è bel po' ma grazie all'intelligenza artificiale definizioni molto più accurate interattività molto più fruibile cominciamo a vedere il mio avviso il transito del mondo super utilizzato mediatico quindi stato bringing the rocky star and the guitar player and palcoscenico e comincia arrivare sulla scrivene del management like il management communication machine one to one or two to two l'altra dimensione che vediamo già in quale siamo inseriti anche dialogando molto e l'uso accademico like transfer da professore transfer da docenti in giro per il pianeta non solo da milano roma quindi academic transfer e invece che il manager si sposta fisicamente sparando un sacco di co2 in un mondo di cop 26 si comincia a imparare di trasferirsi in tre dimensioni attraverso l'ologramma moderna di quali ci sono cominciano a meggiare i market leaders come il google dell'ologramma e compagnia bella quindi già cominciano a facciarsi questi super market leaders di nuovi nomi ma con grande collo verso il futuro quindi a questo punto volevo passare la parola subito per un voting app un voting app cosa sapete su questo discorso quindi nostro approccio tipicamente di coinvolgere tre parole per descrivere voi cosa ologramma in tre parole cosa significa per voi non potete sbagliare torno fuori del screen share sapendo cos'è il mandato questo engage the audience quindi vedrete Sofia che nostra switch stasera lì c'è la modalità di entrare allora ragazzi abbiamo 46 persone online complimenti l'associazione meccanica e le altre associazioni entrare è facile sparate il vostro smartphone a quel qr code di quali siamo tutti iper iper patentato grazie a covid di come fare il qr code quindi sparate il telecamera al qr code se non avete il telecamera rotto per sul phone allora andate in google in un browser qualsiasi scrivete slido e a fianco del cancelletto il codice 4 1 3 6 5 0 quindi cercate di entrare cercate di entrare ragazzi perché piuttosto che dire ma non lo faccio lasciare gli altri se tutti facciamo un team effort tiriamo fuori una comprensione e creiamo un pezzo di comunicazione mai visto nel mondo prima fatto di noi stasera in tempo reale cosa significa ora qui vediamo su contattori in alto a destra la prima persona 46 persone prima persona già votato con solo tre parole allora e ragazzi è anonimo non si può fare la brutta figura qui però la partecipazione sì quindi adesso siamo quattro persone che hanno votato adesso cinque l'unica cosa vogliamo quali sono tre parole che per voi significa la tecnologia o la grafica non potete sbagliare ma vediamo se c'è una tendenza perché stiamo cercando di creare questa tag cloud più votata la parola più evidenza evidenziata la parola adesso siamo a quota 11 e sta andando davanti il voting molto molto bene allora durante il covid questa tecnica qui abbiamo utilizzato tantissimo avete visto per grip the audience involve the audience e tuttora si cerca di evitare il slidismo verbalizzato che ha prodotto secondo un sacco di ricerche che abbiamo potuto fare in 2021 danni al cervello secondo me modestamente detto ci sarà un sacco di class action prima poi quando il mondo normale comincia a scoprire l'eccesso dell'utilizzo di zoom allora zoom come qua è fantastico casualmente ma otto ore di strumenti di lavoro si sa per certo che crea scompensi forti sul cervello tanti ricerche su questo discorso e tanti disfunzioni uguali a parecchie class action allora infatti questo discorso olografico comincia a subentrare per prevedere come si può attenuare questo discorso qui allora noi siamo a 22 persone già votati e non per assolutamente escludere nessuno ma dobbiamo andare molto danzanti sprint stasera siamo già a 26 bravissimi vediamo vostri risultati quanto mi piace queste tecniche perché questo è un pezzo di comunicazione che il mondo non ha mai visto prima ecco prodotto qui e ora in tempo reale fra di voi fra i super esperti di moto vale e non solo perché ovviamente è un'area veneto super importante quindi mettiamo targato piano pienura padana e anche oltre però stanno dicendo ma la roba tridimensionale la roba 3d virtuale immagine innovazione e qualcuno super creativamente ha messo 4 1 3 6.0 come contributo ma ci sta anche l'asa l'asa che può essere contributo coinvolto in questa tecnologia verso il futuro allucinante utile estra qualche cosa quindi fra quasi l'angoscia e comunque il potenziale utilità di questo strumento qui comunque in alto a mezzogiorno vediamo un strumento di comunicazione strumenti di comunicazione quindi cerchiamo di fotografare questo cerchiamo di anche mandare a voi attraverso l'associazione questo prodotto abbiamo 32 persone che hanno votato grazie moltissimo questo perché è più importante di sentire vostro interattività che sparare in modo direzionale un sacco di contenuti perché qui abbiamo un sacco di cervelli girando cercando di sopravvivere in questo piccolo quesito di di fila all'inizio grazie davvero moltissimo e si sa per certo che siamo su un oggetto tridimensionale quindi senza fare riferimento alla mappa si sa che sulla mappa il prossimo contribuente è Orchidea Prifky che è il Chief Operating Officer di Apparition SRL questo startup che comincia a mirare verso la specializzazione applicazioni industriali B2B not Mickey Mouse not Facebook credo verso l'applicazione dell'ologramma quindi prego Orchidea prego prego buonasera a tutti spero che mi sentiate sì ottimo io vorrei introdurvi un po' quella che è la tecnologia olografica le cose che ho letto sono tutte corrette ci sono sia dal punto di vista emozionale tutti gli effetti a livello comunicativo che la tecnologia olografica fornisce quello di un po' dell'effetto wow e dell'utilità dell'inalzamento del livello della comunicazione così come dal punto di vista tecnico è tutto vero che si tratta comunque di tridimensionalità di virtualità di si tratta di c'entrano anche le soluzioni laser eccetera io chiederei a Sofia se gentilmente riesce a condividermi quella piccola presentazione che l'avevo inviato anche se Fila è contro lo slidismo io ho bisogno di un po' di un supporto per farvi per mostrarvi ecco qualche contenuto bene quando si parla io partirei subito anche dall'etimologia della parola quando si pensa ad ologrammi è corretto che si pensa a oggetti in 3d è una tecnica fotografica nel senso che pensare di poter ottenere un oggetto in 3d un clone di qualcosa che non è realmente lì ma esattamente la riproduzione realistica di un altro oggetto al momento è quasi impossibile estremamente costoso perché si tratta di un'acquisizione infinita di immagini che vanno poi ad essere analizzate da tutti i punti di vista al momento la tecnologia olografica è una tecnologia che viene percepita come quasi inaccessibile per alcuni aspetti in realtà non è così nel senso che negli ultimi anni è diventata in realtà molto più accessibile Sofia io andrei un attimo giù per favore è diventata molto più accessibile e noi ne siamo anche un po' la dimostrazione il nostro intento è quello di portare in Italia la miglior tecnologia olografica esistente di farla conoscere in questo modo facendola conoscere sempre di più si riesce un attimo anche ad avere la possibilità di ridurre tutto quello che è un po' quello che è la protezione o la distanza che si ha fra la concezione di un prodotto estremamente tecnologico come un ologramma e l'accessibilità dello stesso andrei subito al dunque così non tolgo anche spazio e tempo ai colleghi al momento si potrebbero raggruppare in due classi diciamo due categorie le tipologie di ologramma o tecnologie olografiche si dice tecnologia olografica perché l'ologramma in sé come strumento in 3D come vi dicevo prima non è del tutto realistico quello che invece è molto più realistico è la percezione di un prodotto di un oggetto proiettato in 3D il cervello lo percepisce in 3D quindi dal punto di vista di percezione nostra non c'è alcuna differenza fra l'oggetto reale e la percezione però nella realtà dei fatti non si tratta comunque di un oggetto in 3D nel senso che se si dovesse ruotare attorno all'oggetto non si vedrebbe esattamente quello che si vedrebbe anche nella realtà da un lato come vi dicevo c'è l'holopresence technology una tecnologia che si basa su una proiezione su display andrei giù per vediamo nella prossima slide infatti vi mostro come funziona c'è una fase di acquisizione dell'immagine normalmente su green screen una fase di trasmissione dove viene utilizzato un software brevettato appositamente come nel nostro caso da Art Media che sono i nostri exclusive partner e in seguito c'è la proiezione in forma olografica su display in questo senso l'ologramma si ha su un supporto esterno in questo caso stabile e si tratta di un display come vi dicevo è una tecnologia quella dell'olopresenza brevettata quindi è qualcosa che possono realizzare al momento solo Art Media in realtà si sta espandendo sempre di più perché si stanno cercando altre alternative molto vicine a questo concetto di ologramma io andare avanti Sofia grazie le applicazioni possono essere molteplici in questo caso ci sono alcune applicazioni concrete abbiamo il primo ministro canadese Justin Trudeau che ha assistito a una conferenza benefica in ologramma riscosso molto successo e piaciuto tanto dall'altro lato c'è l'autica press conference c'erano Klopp e Simeone quello che si può notare anche all'interno di questa immagine è che c'è anche Ancelotti Ancelotti a sua volta è l'ologramma di un ologramma qualcosa stile Inception come in questo caso perché era a sua volta in un altro posto ancora quindi c'erano Simeone e Klopp da un lato c'è il presentatore che si trova ancora in un altro luogo e Ancelotti che si trova in un altro luogo ancora è un altro contesto in cui potrebbe essere utilizzata questa tecnologia quella della presentazione di film quindi delle anticipazioni di film e in questo caso infatti c'è anche l'attore Gesù Mammo non so se vi è noto un'altra tipologia di tecnologia è la tecnologia LED che noi anche abbiamo come Apparition l'abbiamo fortemente evoluta anche questa tecnologia perché per quanto riguarda il mondo retail è molto più accessibile ha un costo molto minore e crea quell'effetto wow di cui si parlava prima come funziona la tecnologia LED di Hyper Vision si tratta di LED rotanti c'è la parte di creazione di contenuti 3D che vengono caricati su questi device che sono caratterizzati da queste eliche contenenti dei LED la rotazione e la proiezione delle immagini creano questo effetto di ologramma sostanzialmente che possiamo vedere successivamente anche come potrebbe essere applicata nelle varie le applicazioni possono essere diverse anche in questo caso potrebbe esserci un holographic human essendo un prodotto che potrebbe essere anche in streaming live si connette esattamente quindi noi potremmo in un futuro avere ma anche al presente se tutti avessero la possibilità l'accessibilità a questo prodotto di poter farle una conferenza come quella di oggi un webinar come quello di oggi come vedete con l'holographic human o meglio c'è una persona fisica e c'è la tecnologia LED di Hyper Vision che permette di vedere in live streaming la persona che in quel caso è lì è dall'altra parte che potrebbe essere registrata anche magari tramite un telefono come in questo caso concreto potrebbe essere utilizzata questa tecnologia e viene spesso e con successo utilizzata anche per eventi e fiere come in questo caso si tratta di un wall quando parliamo di wall parliamo di una serie di device insieme che vengono sincronizzati e danno vita a quella che è l'immagine 3D precedentemente creata infine l'utilizzo, quello più frequente quello di maggior successo ancora è quello nel mondo del retail per tutto quello che riguarda la pubblicità le sponsorizzazioni tutto quello che riguarda la presentazione le anteprime di prodotti quello che è veramente importante per quanto riguarda questo prodotto è la qualità della creazione 3D che dopo viene caricata successivamente viene caricata nel device potete trovare tanti video sia sul nostro sito di cui vi ho lasciato in realtà forse nella prossima slide prima di darvi l'indirizzo del sito ci tenevo un attimo tra le varie applicazioni che si possono avere con la tecnologia olografica uno dei goal principali di Apparition come diceva Phil è quello di linkare tutte le università infatti la tecnologia olografica così come è pensata l'olopresenza in questo caso potrebbe essere utilissima a collegare tutte le università basterebbe che ogni università avesse in una propria sede un capture studio è un projection studio in questo modo un professore che si trova ad esempio a Buenos Aires riesce ad essere proiettato in ologramma a Bologna, a Milano, a Hong Kong ovunque senza doversi materialmente spostare in questo senso potete comunque trovare tutte le informazioni potete scriverci naturalmente o visitare il nostro sito che è apparition.it potete scannerizzare direttamente se preferite il sito e noi comunque rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento o domanda penso di aver esaurito i momenti grazie, grazie moltissimo grazie Orchidea allora per mantenere i ritmi ma soprattutto rispettare i tempi io salterei direttamente a Stefano Bazzano Stefano Bazzano è il manager lungodorata grande esperienza è il direttore commerciale di Apparition e lasciamo a lui dieci minuti per spiegare gli aspetti di applicazioni prego, prego Stefano buonasera a tutti come film mi aveva già introdotto io sono, mi chiamo Stefano Bazzano e sono direttore commerciale l'obiettivo è quello mio è quello di, assieme ad alcuni giovani perché Apparition è circondata da un team di persone molto giovani così promuovere commercialmente questa tecnologia mi è stato chiesto di condividere con voi che cosa dice il mercato per cui io ho preparato anche una mappa quindi Phil se accanto alla tua c'ho la mia se magari me la mostri quindi direi volevo condividere con voi cosa abbiamo colto in questi due mesi perché noi fondamentalmente due mesi che presentiamo nel mercato italiano questa proposta e quello che abbiamo trovato adesso mentre la mappa si carica e io inizio fondamentalmente la percezione delle persone appena parliamo di ologrammi parlano di metaverso cioè dicono ma allora state parlando di metaverso e probabilmente questo è un argomento che viene catalizzato anche tutto quello che si legge sulla stampa quindi Facebook va sul metaverso quindi fondamentalmente la prima domanda è metaverso e quindi io volevo riprenderla e condividerla con voi fondamentalmente visto che siamo qua tra professionisti e l'obiettivo dei professionisti è sempre quello di guardare a lungo termine fondamentalmente secondo noi il metaverso è sicuramente il long term cioè dove si arriverà non so se siete d'accordo ma sarà sicuramente una transazione epocale io dico sarà molto simile a internet però viene vista da tutti o dalla maggior parte delle persone con timore perché sembra qualche cosa che ti che toglie la parte la parte umana allora noi diciamo sì ok il metaverso diciamo è l'ending poi però noi puntiamo molto su un altro argomento che è quello secondo cui ologrammi ed è questa una definizione che noi stiamo dando è quella di realtà mista un po' quella che anche la mia collega Oridea ha menzionato fondamentalmente quello che noi stiamo proponendo è se vogliamo la terra di mezzo tra la situazione attuale e il metaverso ed è la realtà mista la realtà mista dove cerchiamo di mettere assieme il mondo fisico dal mondo virtuale e devo dire che questa fusione visto che poi noi siamo dei commerciali e quindi da buon commerciali cerchiamo sempre di percepire qual è la reazione delle persone cogliamo un certo conforto quindi il messaggio che vogliamo dare oggi visto che poi anche con la professoressa Cosenza parleremo un pochettino anche di comunicazioni il messaggio che noi stiamo dando e vediamo sta prendendo piede è quello di ologrammi realtà mista per fondere queste due realtà e dando conforto per entrare un pochettino sulla parte un pochettino più pratica direi gli ologrammi sono divisi in due parti la prima è quella dell'olopresenza quindi fondamentalmente le aree in cui noi ci stiamo concentrando sono quelle del meeting delle conferenze e quella di poter creare quindi creare presenza cioè aiutiamo a creare presenza da distanza adesso poi l'evento covid ci ha insegnato che bisogna trovare tutta una serie di tecniche questo adesso noi siamo questo è un esempio virtuale però chiaramente quello che noi offriamo è qualcosa di sicuramente più evoluto e si sta lavorando su una cosa soprattutto sull'essere sincrono quindi poter sicuramente interagire quindi farlo farlo live perché la tecnologia di ologrammi può essere sia sincrona che assincrona però noi stiamo fondamentalmente cercando di lavorare su questo e io su questo vorrei richiamare anche l'attenzione su altre due cose estremamente importanti è anche un'altra risposta al cercare di fare un'azione pratica per preservare l'ambiente è evidente che se per fare un meeting per fare delle conferenze anziché spostarsi in 50 persone se ne spostano solamente 25 solamente la metà chiaramente c'è un consumo minore di CO2 perché si prende sicuramente un minor numero di aerei e quindi anche questo è un modo tangibile per poter dire le società che usano questa tecnica hanno anche una visione molto chiara o danno un contributo chiaro a quello che è l'argomento saving CO2 non va neanche trascurato che chiaramente c'è anche un saving dal punto di vista dei costi di trasporto di trasferimento quindi fondamentalmente direi è un win-win perché permette di creare presenza ma cercando anche di tenere due parametri importanti che uno è quello di consumare meno CO2 abbiamo anche una tabella in alto a sinistra in cui si fa vedere un pochettino ecco abbiamo cercato di raccogliere ma quasi sempre le affermazioni devono essere confermate dei numeri ecco questo è stato uno studio fatto per cui si dice fondamentalmente prendi un aereo per fare una conferenza e consumi 76 tonnellate di CO2 per un viaggio medio fai una conferenza in ologrammi e hai un effetto ibrido quindi in cui crei presenza da distanza e fondamentalmente il consumo di CO2 è solamente 6.8 quindi questo è sicuramente tutti ne parlano adesso non vorremmo fare coloro che inflazionano questo termine però se tutti noi adesso come professionisti ci impegnavamo a fare qualcosa questo è un piccolo quid che noi possiamo dare all'argomento ambiente e questa è la parte che vi dicevo ologrammi a presenza che già la mia collega vi ha vi ha dato come indicazione c'è anche un video qua Phil se tu per fuori lo fai partire c'è un video di Youtube in cui facciamo vedere qualche minuto non portiamo via molto tempo ok bene Sofia si riesce a lanciare this is amazing I can see you I can hear you and I'm currently in Los Angeles tonight we're running the world's first holographic event at a university thank you so much it's incredible that I'm here as a hologram we're running an event called women in tech and because the theme is tech we're going to use tech so we're pioneering this new hologram technology and we're going to have speakers beaming in from LA and from New York via hologram to participate in our event here I want you to know with certainty that if you want to be part of the tech world then you should be the people appearing as holograms will be to see the audience take questions from the audience and interact with them as if they were really there knowing that the venture capital space can be like a boys club can you give us some tips on how you've successfully secured funding making sure you really understand the person that you're talking to and why they should invest in your business to have the kind of 3D effect of being able to speak to somebody being able to interact with somebody pretty amazing experience as the business school of Imperial College we need to be shaping the frontier of how technology is used in business we pioneered with our edtech lab digital education in general and so the hologram is another innovation that has now gotten to a stage of development as a technology that we can really deploy as part of our educational mission we bring in the internet based technologies hologram based technologies in order to enhance the learning experience of our students I was amazed I couldn't expect like that level of engagement I feel like this is Imperial 3.0 because if you look at the campus and our classes they're super diverse there's people from all different walks of life but with this technology you're basically expanding your reach and bringing in presence from people globally I'm really excited to see what kind of opportunities come out of this gap that's been closed it felt exciting because as always sitting up there and moderating you could really see oh this is different this is just us having a conversation and the technology has enabled us to have that in a really meaningful way thank you aspetto che secondo noi ha altrettanto importanza è quello degli ologrammi tridimensionali dove fondamentalmente non si proiettano le persone ma in questo caso l'obiettivo qual è l'obiettivo è uno fondamentalmente è quello di poter mostrare in 3D quindi con una tecnologia sicuramente più evoluta la caratteristica di un prototipo quindi e e e degli studi sono stati condotti degli studi sono molto neutral e fondamentalmente ci dicono in modo molto chiaro che la tecnologia 3D utilizzando la tecnica di olio grandi l'ha forzato a una tecnologia a due dimensioni ha degli impatti sicuramente significativi sia per quanto riguarda la creazione del branding qui il proprio brand viene sicuramente enfatizzato eh la chance che il messaggio viene colto è sicuramente doppia rispetto a è due volte comparata alle tecniche di di due a due dimensioni o bidimensionale e fondamentalmente le persone probabilmente come avete fatto voi perché l'ho fatto anche io all'inizio sono stati in modo molto più più a lungo ad osservare ad osservare il filmato se raffrontiamo questa rispetto alla carta eh la famosa carta quindi il famoso deplia chiaramente questi numeri vengono ulteriormente enfatizzati cioè fondamentalmente l'impatto è 4,5 volte maggiore con un impatto visivo chiaramente c'è un coinvolgimento maggiore e aiuta notevole e aiuta ancora di più anche di più rispetto alla carta a creare a creare il brand quindi fondamentalmente il messaggio è sia creare presenza come persone ma non da sottovalutare come tecnologia per così mostrare il prototipo visto che anche molte volte adesso che stiamo parlando proprio nell'associazione meccanica cioè ci sono realtà in cui i prototipi possono essere mostrati e sicuramente dare una visione più più viva e più importante e c'è tutto l'argomento della storytelling e di creare il proprio brand quindi fondamentalmente è una tecnica per riassumere che va a essere intermedia arrivata al metaverso l'impressione che noi abbiamo avuto è che dà conforto e si può utilizzare sia per creare brand e per creare per creare presenza questo è un pochettino il motto e devo dire che dal tour che abbiamo fatto così dai primi Rochow stiamo avendo sicuramente parecchio interesse devo dire adesso non stiamo qua a parlare del punto di vista commerciale però l'obiettivo era capire se questa tecnica per comunicare è una tecnica vincente e dai nostri la nostra considerazione lo è adesso sarà poi a noi tradurre tutto questo mettere a piedi a terra e tradurre tutto in business per dare un supporto alla start up direi questo era un pochettino quello che volevo condividere con voi grazie grazie moltissimo grazie grazie Stefano allora io direi che passiamo adesso a un super veramente grande esperto del settore di comunicazione professore professoressa Giovanna Cossens dell'Università di Bologna key mail di lei di darci un wrap up un'conclusione e una valutazione anche su questo quindi passerei a Giovanna buonasera Giovanna grazie Phil buonasera a tutti a tutti molto interessante sono accettato volentieri perché volevo vedere un po' da vicino questa nuova tecnologia allora sicuramente l'intervento finale in cui che poi quello di Stefano quindi l'aspetto commerciale si vede l'efficacia della componente di presentazione commerciale perché possiamo andarci del tu è uno you e sei andato a toccare esattamente il timore che è esattamente quello che va è l'emozione che domina di fronte a ogni novità ecco su questa novità la resistenza rispetto alla novità è umana c'è sempre una percentuale piccola di persone che non ha questo tipo di resistenza ma la maggioranza ce l'ha quindi con ogni innovazione il timore la fa da padrone in questo caso qui poi c'è tutto uno scenario una fantasia un immaginario che è fantascientifico eccetera va verso la disumanizzazione e allora sicuramente il concetto chiave è l'ibrido è il misto l'abbiamo visto anche nell'esperienza pandemica io lo sto vedendo adesso che siamo tornati in aula avete toccato io faccio la prof mi occupo di comunicazione e facendo anche la prof faccio comunicazione in aula quindi faccio studio sempre quello che io stessa faccio e che i ragazzi fanno con me quel tipo di ambiente di comunicazione che io frequento per mestiere è uno degli ambienti in cui naturalmente questo tipo di tecnologia può prendere piede quindi diciamo che mi sento a casa nel tipo di esemplificazioni che avete fatto e l'esperienza pandemica e post pandemica mi ha insegnato molto e mi fa pensare che questa possa essere un'ulteriore tecnologia da aggiungere e che non sostituisce questo tutti i media i mezzi di comunicazione la storia dei mezzi di comunicazione di massa e non di massa ci ha insegnato che nessun mezzo di comunicazione sostituisce ma si aggiunge ad un sistema che lo integra in modi anche imprevisti ed è il bello di questo è molto difficile che qualcosa sparisca completamente quindi io non immagino che le tecnologie olografiche possano andare a sostituire completamente una videochiamata come questa immagino che possano essere un altro modo di incontrarsi a distanza con i suoi puoi e i suoi contro allora io quindi ho anticipato il mio favore alla presentazione che ho che ho ascoltato e il fatto che mi trovo non solo perché per professione mi occupo di digitale da sempre e quindi sono una tecno entusiasta ma insomma mi trovo favorevole proprio integrandola nell'esperienza degli ultimi due anni che aveva visto molte resistenze da parte di molti e che poi invece per costrizione ci ha portati tutti a usare questi strumenti e questo dopo le difficoltà iniziali è stato un bene ha avuto anche i suoi problemi ha creato una serie di problemi e li crea tuttora perché e ancora non sono studiati non li abbiamo capiti per bene e dunque credo che nei pochi minuti che ho a disposizione l'ibridazione e il mettere insieme sia sempre la soluzione e sia anche la prevenzione dei problemi nel senso che io vi dico cosa ho provato tornando in aula e io faccio lezione in modalità mista o ibrida si dice appunto io sono quindi ho un insieme di ragazzi in presenza e la maggioranza dei ragazzi è ancora a distanza la maggioranza perché ci sono problemi economici perché ci sono ancora problemi di pandemia alcuni si contagiano e non possono venire in aula e perché ci sono problemi che provengono dall'abitudine di essere rimasti a distanza per cui molti io per prima a volte ho delle resistenze a tornare in presenza perché c'è una maggiore fatica del faccia a faccia della presenza fisica che viene alleggerita dall'essere a distanza e questo io lo provo su me stessa ci sono delle volte che io preferirei continua oggi devo andare a lezione e devo sforzare mentre per me una volta era normale uscire di casa e io godo gioia nello stare in aula dopo due anni di pandemia trovo in me questa resistenza e questa resistenza non è un bene ed è quello che dobbiamo evitare ok la modalità mista è la soluzione quindi per voi insistere sul librido e sul misto è esattamente la chiave per cui aggiungere questo come un mezzo per creare un effetto di presenza maggiore ma ricordando sempre che in qualche modo un surrogato e ricordando che per adesso andare a guardare cosa manca cosa manca in questa pur maggiore presenza data dalla tecnologia degli ologrammi olografica mancano tutti i sensi tranne la vista e l'udito cioè le interazioni fra persone è chiaro che siamo soprattutto in una civiltà in cui il dominio è quello visivo ok dopodiché poi ci si ascolta e quindi è audiovisivo noi adesso stiamo usando un mezzo di comunicazione audiovisiva ci vediamo e ci ascoltiamo ehm le tecnologie olografiche cosa fanno rendono ancora più forte l'effetto di compresenza ma è sempre una compresenza basata su vista e udito non solo è una compresenza che è accettabile per quello che gli studi sulla prossemica chiamano la distanza pubblica che è quella appunto delle conferenze delle presentazioni pubbliche in cui gli esseri umani stanno per intenderci dai tre metri ai mezzo in su di distanza gli uni fra gli altri anche la distanza immediatamente inferiore che è quella cosiddetta sociale che è la distanza dei rapporti di lavoro in cui si va dai due metri ai tre metri più o meno può favorirsi di eh tecnologie eh olografiche eh mancano le distanze più ravvicinate quella intima è per gli amici intimi e per gli amanti ma anche quella amichevole è una distanza inferiore ora questa le distanze più ravvicinate che è quella amicale e quella intima eh attenzione eh che non sono totalmente escluse né dai rapporti di lavoro né dai rapporti eh per esempio docente discente professori allievi e neanche dai rapporti con il conferenziere tutta questa roba qui non possiamo dimenticare che eh per questo tipo di minore distanza che vuol dire tante cose tante informazioni che passano fra gli esseri umani attraverso gli altri sensi che non sono la vista e l'udito questi altri sensi sono quelli su cui poi si basano relazioni che non sono necessariamente quelle per cui ci si ama o si diventa amici ma per esempio nella relazione didattica sono importanti cioè il rapporto di faccia a faccia con lo studente e la studentessa è quel qualcosa che poi fa scattare la motivazione eccetera questa roba qui quando sei in aula fisicamente presente e cammini in mezzo ai ragazzi anche se ne hai 600 come io ne ho 600 in aula in cui la distanza sociale è dominante perché loro mi vedono piccola una cattedra magari ingrandita in audiovisivo ma c'è un momento in cui io vado in mezzo a loro e io lo vedo che loro guardano la mia non voglio essere autore referenziale ma è per farmi capire la fisicità le informazioni che passano fra il mio sono quel qualcosa che poi se gestite bene da parte di chi comunica fa sì che funge da stimolo ulteriore perché io ci metto dell'entusiasmo ci metto il modo in cui li guardo ecco questa roba qua inevitabilmente in questo tipo di tecnologie a distanza per quanto tu rendi la presenza più vicina più illusoria e quindi di qua è nuova quindi fa effetto wow ok mancherà bene quindi ovvio che tutto questo va visto come un ulteriore modo benissimo che si sottolinei la conservazione dell'ambiente perché torna a rendere umano quel qualcosa su cui ci sono timori di disumanizzazione quindi le leve su cui ha fatto appello Stefano sono perfette perché vanno esattamente a diciamo dissipare quei timori che sono normali di fronte di fronte a questo tipo di novità ok però non dimentichiamo che gli esseri umani come dire il prototipo della relazione comunicativa il fondamento di qualunque relazione comunicativa è quella in presenza e da qualche parte pur in modo selettivo andando poi a fare alcuni incontri in presenza non in maniera indiscriminata e quindi non prendendo aerei e costringendo le persone a consumare e inquinare con la CO2 eccetera eccetera quella roba lì andrà sempre in qualche modo tenuta in considerazione e a volte favorita perché non dimentichiamo che abituarsi troppo al dominio della vista dell'udito e alle relazioni a distanza crea quegli effetti di rinchiudimento di cui dicevo ognuno di noi ha fatto esperienze sa che che c'è questa tentazione un po' perché si diventa è un po' perché è più comodo perché c'è un carico un sovraccarico sensoriale ed emotivo nella presenza fisica che si supera solo facendolo spesso gli esseri umani quando sono gli uni di fronte agli altri è tanta roba che ci arriva allora più distanti siamo più ci disabituiamo e quindi in qualche maniera arriviamo a temere questa tanta informazione che ci arriva ecco quindi sarà difficile immagino trovare di volta in volta questo equilibrio nei vari mezzi che le tecnologie mettono a disposizione mai dimenticando che l'ambiente di comunicazione fondativo a cui in qualche maniera per fare alcune cose bisogna sempre tornare è quello della presenza non sto dicendo questo in modo tecnofobo non so se mi sono spiegata però mettendo la presenza fisica gli uni di fronte all'altro insieme a tutti gli altri mezzi di comunicazione non scordiamola per cui ritorniamo conferenza bene si può decidere di farla su zoom qual è il vantaggio di zoom rispetto alla tecnologia olografica è più sporco mostra più difetti mostra deforma le immagini c'è un'umanità di un'imperfezione che passa di più secondo me per quello che ho capito attraverso questi 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 piccoli riquadri che finiscono comunque nelle case delle persone passano delle informazioni che vengono ripulite nella proiezione olografica forse questa è una la metto in forma di domanda cioè quindi non esclude non mi sento di dire che a quel punto si farà sempre tutto con con tecnologia olografica perché questo tipo di comunicazione che magari apparirà molto più sporco e più imperfetto in realtà restituisce una vicinanza che che può può ancora essere un valore ecco finisco anche se le cose da dire possono essere molte di più grazie grazie moltissimo grazie davvero allora Giovanna forse ha insoputo forse ha lanciato un forse un grande tratto di ricerca un indirizzo di ricerca cerco di spiegarli 2014 come associazione meccanica abbiamo visto il film di Steven Johnson where do good ideas come from che è essenzialmente l'incrocio delle un po' l'insoliti allora Giovanna ha lanciato questo discorso dei sensi e sono venuto a sapere che il direttore scientifico di Apparition è professor Marco Roccetti di Unibon e io mi ricordo ho visto Roccetti in azione ma è cinque anni fa dicendo ora oggi riesco a sparare tutti i sensi attraverso l'internet io sono rimasto sconvolto caspita un professore di Unibon tutti i sensi quindi Giovanna dice ci vuole questi sensi lui dice riusciamo fa è possibile che Giovanna ha lanciato questo indirizzo di ricerca sviluppo firmato Emilia-Romagna Nord Italia Pianura Padana su questa evoluzione dell'orogramma che passa per altri sensi in più spezzo l'ansia per la Giovanna perché il media manager il web media manager bravissimo di apparition l'ho incontrato è uno studente della Giovanna quindi per dire che questi grandi professori emettono delle grandi talenti si sa mai uno si è prodotto come grande competenza all'interno di apparition l'ultima cosa da dire magari facendo la domanda a Stefano Bazzana se ho capito bene questa società apparition diventa il nodo per ora in Italia guarda casa Bologna tipo Marconi del primo rete oligrafico il mondo ha mai visto quindi la prima rete oligrafico in tempo reale collegando un sacco di paese il primo approdo in Italia e Bologna attraverso questa società apparition quindi dal local nodo di una rete oligrafica mondiale dico bene Stefano è una delle idee proprio di averlo come nodo principale quindi direi che la tecnica è molto diffusa stiamo cercando di avere un po' di ordine quindi iniziamo da questa da questo approccio quindi si parte del Borgo Panigale nuovi uffici di apparition Borgo Panigale il nodo in quale si chiacchia con il mondo attraverso l'Ovagram bene grazie moltissimo Marco tu sei tu rigorosissimo sul tempo cosa dobbiamo fare? ma io direi intanto grazie Phil vediamo se qualcuno ha qualche domanda perché c'era una considerazione domanda fatta da una collega che parlava del senso dell'olfatto da aggiungere alla vista l'udito ma hai già risposto quei cinque sensi quindi prima o poi arriverai a fare ciò se qualcuno vuol fare una domanda veloce via chat per cortesia vedo un piccolo cosa che so che Cineca nella vesta di nostro ex lettore di Bologna Ubatini incontrerà questa società pari questo mese per cominciare a analizzare come questo può essere messo a disposizione del mondo universitario in Italia quindi Ubatini prendendo una co-leadership in questa divulgazione perché qualcuno ha detto l'esperienza nel chat testimoniata del video Imperial College è molto convincente effetto wow sicuro ma credo che non siamo molto lontani indietro in Italia di avere questo in Italia e Unibo avendo un distacco in Argentina un ponto olografico didattico fra Bologna e Argentina è assolutamente in vista bello interessante avete bisogno di una mano tenete in considerazione il mio ruolo nel senso che comunque ho la governance attuale di Unibo ci si può lavorare grazie sicuramente nel mio corso io insegno nuovi media sicuramente mi interessa l'ho appena finito la settimana scorsa se no vi avrei invitato sicuramente a presentare in aula grazie possiamo organizzare delle cose perché sempre in quest'ottica di ibridazione e di coesistenza e anche di problematizzazione cioè voglio dire io poi sono allieva di eco né apocalittica né integrata cioè è il balance quello che porta le soluzioni più innovative per cui senza temere senza il timore dove andremo a finire assolutamente no e senza neanche però cioè io ricordo quando ci fu il momento di Second Life allora il metaverso a me ricorda pericolosamente il boom di Second Life vi ricordate 2007-2008 ci fu un picco di tesi di laurea su Second Life che non riuscivo a reggere e io ospitai in aula manager che sostenevano che avremmo letto il giornale in 3D ecco ed era una sciocchezza che a qualunque ragazzo del secondo anno di scienza della comunicazione arriva chiara il giornale l'ha sempre stato in 2D cioè non vedo perché dobbiamo tridimensionalizzare il giornale ecco c'era questo tipo di deformazione per cui i limiti di Second Life non li devo non li devo riassumere qua quindi senza cadere in questo tipo di cioè non so il problema del metaverso con quegli omini che si vedono che hanno un problema sono tutti che sono dei busti gli manca dalla cintola in giù e su questo si potrebbero fare delle battute di vario tipo però c'è una disumanizzazione evidente in questo perché i 5 sensi intanto ricordo che i sensi non sono solo 5 perché come minimo ne abbiamo un sesto e non sto scherzando non è il sesto senso ma insomma l'abilità delle sinestesie umane cioè ridurci a 5 sensi è una banalizzazione quindi bene l'aggiunta dell'olfatto purché si abbia il coraggio di mandare le puzze in rete cioè il tema è un po' questo perché se poi diventa un modo in cui tutti appaiono come come certi le tecnologie di questo tipo diologia le olografiche le vediamo in tv con i flash le facce illuminate per cui nella televisione ci sono alcuni speaker oggi che non hanno quasi più il volto da come l'editing digitale cancella tutto ecco siamo molto c'è c'è un'ibridazione anche in questo no il digitale permette questo già in una televisione generalista per cui davvero non hai degli speaker ma hai qualcosa che è meno realistico dell'orologramma c'è una domanda sì se permettete c'è una domanda fatta dal nostro amico Roberto Loutizi che è il nostro ex collega di consiglio dell'associazione ma che vive a Limarca ormai ho visto la domanda Marco e per grazie per rispondere sì perché credo che apparisce che il partner in esclusivo di questa organizzazione Art Media è Art Media al palinsesto di tanti manager nel Nord America fornisce il Nato fornisce tanti corporation fornisce grandi aziende di consulting ospedali accademici che volano quindi assolutamente essendo parte di loro sarei in grado di captare tutte queste esperienze canadese Art Media è un'azienda canadese e invece di inventare l'acqua calda può portare un'evoluzione recente non storica di questa tipologia di live holographic application assolutamente all'interno dell'industria secondo me è una cosa molto positiva perché sentendo mio fratello qui in Inghilterra adesso vi faccio arrabbiare tutti ok lui che è un gran sostenitore dell'Italia adora la competenza con quale molto vale fate le cose ma diciamo come mai in Italia sanno fare le cose brillantemente ma sulla comunicazione non è l'altezza del stesso livello di fare creare le cose quindi forse è un chiodo in più e vedo che Giovanna è d'accordo un chiodo in più per elevare la dignità della comunicazione garantire che il fabbricato made in Italy in generale è assolutamente valorizzato al top supremo che basta questo discorso di sottodichiarare perché le persone arriva e dice ma come mai non sapevo della bellezza del food del mototronic del tutto quanto che è comunicato ma non forse ha la stessa eccellenza con quale vieni fabbricato nel primo luogo quindi speriamo che questo tipo di tecnologia che parte in Italia a questo livello del gioco a Bologna non parte Milano non parte Roma non parte Bologna speriamo che viene applicato quanto prima all'azienda in nostra grande comprensoria grazie direi vi ringrazio ringrazio tutti i nostri lettori ringrazio i nostri colleghi che hanno partecipato con noi delle altre associazioni e direi di andare verso la chiusura perché domande non ne vedo un'informazione solo di servizio il prossimo webinar che avremo come associazione sarà un webinar prettamente tecnico così come noi facciamo solitamente parleremo di saldatura delle materie plastiche abbiamo fatto un excursus sulle saldature quindi connessioni meccaniche saldature acciai questa volta parliamo di saldature plastiche con tutte le tecnologie con cui si possono poi saldare le materie plastiche e sarà il 24 marzo sempre alle 18 a questo punto passerei la parola a Francesco per la chiusura giusto saluto e ringrazio tutti i tanti attori è un argomento questo è stato un primo piccolo passo in questo mondo che sicuramente è tutto da scrivere e oggi abbiamo il focus era più sulla comunicazione ma io avrei mille domande sull'aspetto poi più tecnologico perché abbiamo parlato di qualcuno che vede l'ologramma ma c'è anche quello dall'altra parte del cavo o dell'etere e poi bellissimo anche il fatto che appunto se abbiamo dei progetti di ricerca già che hanno il grande intento di far passare anche le puzze come si diceva oltre gli altri sensi sarà sicuramente un secondo appuntamento a cui dovremmo dar seguito ecco grazie mille a tutti grazie 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 grazie